Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere, siamo a Fiera Agricola, un successo dal punto di vista anche numerico che si sta già prospettando, anche se siamo appena agli inizi. Prospettive e soprattutto come la viste lei in questi primi due giorni? Vedo una Fiera Agricola veramente importante, perché la presenza di oltre mille esploditori dà solo chiaramente una dimensione, già questo, l'importanza della manifestazione, ma soprattutto il fatto che dentro Fiera Agricola possiamo oggi trovare tutti i mezzi di cui l'azienda agricola ha bisogno. Quindi vista a rovescio l'azienda agricola può venire qui a Fiera Agricola e trovare tutte le attrezzature, le tecnologie, le innovazioni, le soluzioni anche per i propri problemi di cui necessitano la sua attività quotidiana o di programmazione. Fiera Verona in generale, ma Fiera Agricola in particolare, è ormai un punto di riferimento anche internazionale in questa Fiera Agricola, ci sono oltre 33 Paesi, delegazioni di Paesi che partecipano. Un dato anche su questo importante punto di riferimento che ormai è diventata anche Fiera Agricola, è vero una Fiera in generale? Beh, siamo al 120esimo anniversario della Fiera di Verona e la Fiera di Verona è nata con la Fiera dell'Agricoltura, quindi poi questa è la 113 perché da un certo punto in avanti siamo diventati biennali e quindi quello che posso dire è che fin dalla prima edizione Fiera Agricola è stata un'amministrazione veramente internazionale perché tutti ricordano gli anni in cui qui si scambiavano le capacità, le conoscenze tra le grandi agricolture del mondo, quella russa, quella americana, quella del nord Europa, quella francese. Non nascondo che ci piacerebbe, lo stiamo discutendo da un po' di tempo, ragionare su che una Fiera Agricola, poi può chiamarsi Fiera Agricola o la soluzione si trova, con un partner cinese da fare in Cina perché crediamo che molte delle congi italiane abbiano anche spazio anche su quei mercati e con la Russia c'è un rapporto veramente stretto in tanti dei settori che noi gestiamo e perché no, su tante delle tecnologie specializzate, innovative, sulle quali la tecnologia italiana oggi offre il meglio al mondo, credo che anche per il mercato russo ci possa essere delle belle opportunità e delle belle opportunità soprattutto di scambio reciproco perché poi la Russia è un grande produttore agricolo, potrà essere sempre di più anche un grande produttore agricolo specializzato e la parte del Sipa è sicuramente interessante anche. Quindi ancora il Veneto, la famosa Via della Seta del Veneto, diciamo ancora funziona per i paesi eurasiatici? Insomma, io sono fra i grandi sostenitori della Via della Seta e la Via della Seta poi passa un po' più a sud, un po' più a nord, però alla fine coinvolge paesi sui quali certamente tutta l'Eurasia è coinvolta e noi guardiamo con grande attenzione a questa direzione. Le chiedo infine le prospettive per i prossimi appuntamenti di Verona Fiera che comunque abbiamo detto ha una serie di importanti eventi che continuano ad essere punto di riferimento un po' per tutti. Adesso la primavera, anche se oggi è giornata un po' invernale, si avvicina e avvicinandosi la primavera, aspettiamo due grandi appuntamenti, uno è il progetto Fuoco, quindi una grande manifestazione internazionale dedicata all'utilizzo della biomassa legnosa per le soluzioni di riscaldamento, di climatizzazione degli ambienti e poi naturalmente l'appuntamento tradizionale di aprile che è il VIN Italy, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino al mondo, perché parliamo di questo, e che anche quest'anno si presenta come un'edizione straordinaria, ancora in crescita e questo è il segno che il vino italiano sui mercati internazionali ha ancora un grande successo e devo dire che la Russia è un partner fondamentale perché sta crescendo come mercato in maniera significativa e ci piacerebbe anche poter essere di più contributo a far crescere anche un'attività che ho visto diventare sempre più interessante che è quella della produzione di vino nella Repubblica russa, ho assaggiato dei vini di grande interesse e perché no, credo che anche si possano sviluppare delle partnership e delle collaborazioni proprio su questo. Un'ultimissima battuta le chiedo su Eurocarni che è un brand sempre di vero e una fiera, che è una fiera nella fiera tutto sommato. Beh, Eurocarni è un'amministrazione di grande tradizione che, ahimè, ha sofferto probabilmente in questi anni anche di una difficoltà del settore zootecnico italiano, un settore zootecnico che però ha ripreso ad essere oggi un settore più moderno, sta tornando ad essere realistizio, soprattutto in questa zona del Veneto e della Lombardia e quindi è un Eurocarni che abbiamo fatto con grande attenzione sia alla parte delle attrezzature e delle macchine per l'elaborazione ma anche con un occhio rivolto al mercato, perché la collaborazione con la società dei Macellai è stata venuta proprio per comunicare che di fronte a tutta questa paura che per tanti anni ha volto il mondo della carne, oggi lavoriamo con dei prodotti che sicuramente hanno delle certificazioni, delle tracciabilità di sicurezza che sono molto molto più in garanzia per i consumatori. Grazie. Grazie.